Ristorante e pizzeria Pineta, pizza ad alta digeribilità, pasta fatta in casa, sughi con tartufo pregiato di stagione, funghi locali, ragù di carne di cinghiale, capriolo, anatra, tutto naturalmente con olio di frantoio barchigiano e che dire dei secondi, fiorentina, tagliata, bistecca, arrosti misti di coniglio, pollo, piccione e agnello, vini di qualità locali e birra artigianale. Il tutto in ampli spazi interni ed una meravigliosa e sempre fresca terrazza esterna. Su richiesta, spettacoli musicali per feste e ricorrenze, pizzeria e ristorante La Pineta a Cagli in provincia di Pesaro Urbino. Inviare della Vittoria 13, info e prenotazioni al numero 0721 78 19 29.